Ciao ragazzi, voglio parlarvi di un problema che mi sta particolarmente a cuore, cioè il suo riscaldamento globale e di conseguenza il suo riscaldamento degli oceani, con la morte di centinaia e centinaia di metri di barriera corallina nel mondo. È un problema veramente importante, viaggiando in questi anni mi sono resa conto che in tutto il mondo i coralli stanno morendo, i pesci stanno andando sempre più in profondità e stiamo modificando completamente l'ambiente che ci circonda, perciò è arrivato il momento di fare qualcosa, cercando di capire che il nostro corpo può adattarsi al clima che ci circonda, perciò cerchiamo di usare climatizzatori in modo più responsabile e cerchiamo di avere rispetto più che possiamo per l'ambiente e per il mare. Il mare è il polmone più grande che il pianeta ha. Sott'acqua c'è un ecosistema meraviglioso e dobbiamo fare di tutto per rispettarlo e per salvaguardarlo. In tutti questi anni abbiamo distrutto veramente troppo, quindi ora è il momento di fare qualcosa. Dai ragazzi, aiutiamo il nostro pianeta!